Uomini e donne, il tronista Luca D'Affrè, è l'amore persona che mi stravolga dentro frecciatina di Gianni Sperti. Luca D'Affrè, tronista di uomini e donne è alla ricerca del vero amore. A dimostrarlo è l'eliminazione di Ilaria, corteggiatrice romagnola che aveva colpito inizialmente il tronista per i suoi occhi di ghiaccio e poi, è stata mandata a casa dopo la seconda esterna. Tu sei una bella ragazza però non si è creata chimica tra noi e non mi viene voglia di conoscerti, ha precisato Luca. Non è così semplice riuscire a trovare la donna ideale. Ciononostante Luca D'Affrè è fermo sulla sua idea, io voglio trovare una persona che mi stravolga dentro. Desidero un amore leggero, che viene con il tempo e si costruisce tassello dopo tassello, ha spiegato il tronista. Durante la puntata di Uomini e Donne, l'opinionista, Gianni Sperti spalleggiato da Tina Cipollari, ha sottolineato come non c'è età per insegnare. Una frecciatina in diretta. In questo momento un ragazzo giovane ha insegnato ad un adulto, mi riferisco ad Armando Incarnato. Cavaliere del Trono Over, cosa è l'amore e cosa bisogna cercare? Muzica a pus cu rap-ul și pentru el e de bun simt să ridic ștacheta, liric vorbința, ajungă la ea doar nasa cu racheta, s-o admire nave spațiale de pe Andromeda, ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu textul-i plin de dude, dume redante printre dale aculte, încerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, arlinistit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut, pe scurt, de la un...